E' subito Super Jolly Montemurlo. L'impresa della settimana la firma la squadra di Simone Sette Soldi che supera in un Adonelli sold out il Gubbio per 1-0. I biancorossi vincono e convincono contro una nobile decaduta del calcio dilettanti. Decide una rete su punizione a due in area di Molinari che trova il pertugio vincente. Proteste o gubbine per l'episodio che ha originato la decisione arbitrale. Tocco del difensore del Gubbio. Sì oppure no? Il replay per capire meglio. Il Montemurlo legittima la vittoria con le gigantesche occasioni fallite da Molinari e la super giocata di Pinzauti e una traversa ancora griffata da Molinari. Al resto ci pensa un super Biagini e un pizzico di buona sorte. Entusiasmo biancorosso. Fareggio in trasferta invece per lo Scandicci. La squadra di Francesco Baiano impatta per 0-0 a Montecatini contro la matricola terribile di Mister Maneschi. Gli azzurri incaverano il primo punto in classifica e danno segnali di crescita. Intanto in Serie D non c'è sosta e mercoledì di nuovo tutti in campo per il turno in fase settimanale. Il Montemurlo chiude il trittico Ungrio a città di Castello mentre lo Scandicci ospiterà il Sansepolcro. Ne vedremo delle belle.